Quali sono i plus della monovolume Kia Carens? Lo chiediamo ai nostri ospiti in studio. Doppia presenza qui a SaveDrive per il primo approfondimento in studio di questa sera. Diamo quindi il benvenuto a Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia. Buonasera. E a Giuseppe Mazzara, direttore marketing Kia Italia. Buonasera. Alla nostra sinistra invece la nuova Kia Carens, che chiaramente è l'oggetto del nostro dibattito in studio. Una vera novità, anche se in realtà il nome Carens rappresenta qualcosa di importante per la storia di Kia, vero Giuseppe? Sì, perché Carens è stata una monovolume di segmento C, quindi di segmento medio, due generazioni, che è stata molto importante per le vendite di Kia nel mondo e anche in Italia. Adesso qui presentiamo in questi giorni la nuova versione, che così come è stata per la gamma Kia negli ultimi due anni, costituisce un ritorno, ma sostanzialmente un modello totalmente nuovo. Rimane solo il nome, in comune con la versione precedente, e quindi qui pianale nuovo, nuove motorizzazioni, un nuovo concetto di monovolume compatto di segmento C, che riteniamo sia estremamente interessante per il nostro mercato. Ecco, avete rinnovato la gamma veramente in pochissimo tempo, in pochissimi anni, e anche in questo caso si può entrare a vedere una svolta da un punto di vista anche del design? Sì, io credo che da qualche anno ormai Kia, da quando Peter Schreier ha preso la responsabilità e la leadership nella filosofia stilistica di Kia, io credo che ogni prodotto nuovo costituisca una novità, nel senso che si esplorano sempre contenuti più avanzati di design e di stile, ma ci sia un denominatore comune. Il Tiger Nose, che ormai caratterizza tutte le auto Kia, anche qui declinato in maniera molto moderna, dinamica e sportiva, quindi credo che da un punto di vista stilistico i nostri prodotti abbiano raggiunto ormai una maturità che è adeguata con quelli che poi sono i contenuti tecnologici che gli stessi hanno. Giuseppe, chiedo da uomo di esperto di marketing, è facile intuire che questa è una vettura che si rivolge alle famiglie, tantissimo spazio a bordo, so che ci sono anche delle peculiarità interessanti a livello anche di opportunità di gestione proprio dell'interno dell'abitacolo. Sì, la Nuova Carens ovviamente si rivolge al target famiglia, una famiglia che ha bisogno di spazio perché appunto si parla di altissima versatilità e flessibilità interna della Nuova Carens, oltre ad essere disponibile in configurazione 5 posti, c'è anche la possibilità di avere la versione 7 posti e tutti i sedili sia della seconda che della terza fila sono singolarmente abbattibili e si possono spostare anche in avanti, quindi diciamo la flessibilità del vano di carico e al totale discrezione di quelle che sono le esigenze della potenziale clientela. Quindi si parte da quello che è il motore 1.6 benzina GDI che eroga 135 cavalli, per poi passare a quella che secondo noi è la motorizzazione che più interessa la clientela italiana che è il 1.7 CRDI come on rail, che è offerto in due livelli di potenza, un 115 cavalli e un 136 cavalli. Giuseppe, il mercato con i numeri che ci sta fornendo per la situazione in Italia ci porta a fare delle considerazioni. C'è ancora spazio per le monovolumi in Italia? Sì, c'è spazio anche se a nord è vero, questo segmento ha subito un calo negli ultimi 3 o 4 anni proprio perché diciamo che il gusto dei guidatori italiani ha fatto sì che ci si muovesse più sui SUV. Però io credo che ci sia uno zoccolo duro di clientela, parlavamo del target familiare, che ha bisogno di spazio, quindi può avere anche bisogno dei 7 posti, ma ha bisogno di flessibilità, di abitabilità interna, quindi credo che esista e nel nostro caso credo che la nostra proposta sia estremamente interessante, e quindi credo che abbia tutti i numeri per farsi spazio in un segmento che è diventato più competitivo proprio perché è stato oggetto di una contrazione importante negli ultimi anni. Andiamo proprio a scoprire quelle che sono le caratteristiche dal punto di vista di costi. Questa è una vettura che offre tanto a livello tecnologico che però deve essere anche concorrenziale dal punto di vista di prezzi. L'offerta è abbastanza semplice e facile da capire perché si concretizza in due versioni. La versione d'entrata, anche se è riduttivo chiamarla di entrata perché già ha il climatizzatore manuale, la radio, il 6 airbag, il controllo della trazione, l'SP, quindi un pacchetto sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista dell'entertainment molto completo. E questa prende il nome delle versioni cool. Dopodiché c'è la versione classica che aggiunge in più il climatizzatore a controllo automatico, la smart key, la telecamera posteriore e anche il sistema di radio con il touchscreen. Il passaggio da una versione all'altra è semplicemente rappresentato da un delta prezzo di 2.000 euro e invece lo starting point della gamma carenze è sotto i 20.000 euro, quindi da 19.500. però questa soglia può essere ulteriormente abbassata perché in fase di lancio abbiamo un'azione promozionale che consiste in una sorta di bonus di 2.000 euro che la rete dei concessionari ufficiali può applicare sulla nostra vettura e quindi che consente o il passaggio da una versione all'altra, quindi dalla versione base alla versione top perché appunto i 2.000 euro rappresentano la differenza oppure un ulteriore abbassamento della soglia all'ingresso al mondo carenze a 17.500 euro. Ecco, un'offerta importante. Ci sono tante case in questo periodo che forse non è mai stato un miglior periodo per acquistare un'automobile in Italia come in questi ultimi due anni. Però so che voi di Chia d'Italia avete pensato anche a delle strategie dal punto di vista anche di finanziamenti. Proprio per venire incontro a quella che può essere la difficoltà di avere disponibilità di qualche migliaia di euro che comunque servono per acquistare un'auto nuova anche se si accende a un finanziamento e noi abbiamo pensato di offrire una formula finanziaria che si chiama Chia4Family e che in realtà consente al cliente di unire quelli che sono, diciamo, la parte finanziaria normale di acquisto dell'automobile anche dei servizi aggiuntivi. L'assicurazione furto incendio che è importante ma soprattutto un programma di manutenzione per cui sostanzialmente nella rata che il cliente pagherà, che ipotizzando un cliente medio con un'auto impermo dal valore di circa 7.000 euro per un acquisto di una care di livello medio di equipaggiamento con 245 euro al mese per 4 anni avrà la possibilità di avere una care comprensiva di manutenzione e di assicurazione furto incendio. Ecco, mi piace prima di andare a concludere citare, dare due numeri quando sono positivi in un momento come giustamente ricorda Giuseppe e non propriamente felice per il nostro settore automotive in Italia. Chi ha chiuso il 2012 con incredibile più 39% e a maggio nel complessivo il più 20%. Allora, io da giornalista ma anche chi ci segue da casa si chiederà qual è il segreto di questa affermazione. Il segreto non abbiamo parlato di questa affermazione.